amici sportivi siamo al campo Montindon dove gioca l'Ambrosiana partiamo con la presentazione dei giocatori dal portiere buonasera Cecchini Federico portiere Adolfo Lord portiere Quintarelli Massimiliano portiere Alessandro Cottini difensore sono rimasto perché è arrivato a Birlea ciao c'è Leda Simone difensore sono venuto qua per giocare con Birlea grazie Thomas Fornalea difensore Alessandro Lederle difensore Tadiotto Giovanni difensore Ario Nayetti difensore Lonzernicola centrocampista ma l'occorrenza difensore Filippini Marco centrocampista Riccardo Testi centrocampista Perinelli Francesco centrocampista Francesco Pietropoli centrocampista Niccolò Pangrazio centrocampista Niccolò Pangrazio centrocampista Cristianelli Giacomo Cristianelli Giacomo attaccante Nicoletti Roberto preparatore dei portieri Andrea Crema allenatore in seconda Antonio Schiena massaggiatore Fommaso Chiechi allenatore Dimitri Lugoboni magazziniere Dimitri Lugoboni magazziniere Bene chiudiamo il servizio e lasciamo i ragazzi all'allenamento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti